Esistono altre forme di vita al di fuori di Twitch? In altre parole, ci sono piattaforme esclusivamente per live streaming che possono concorrere al Colosso Viola? Scopriamolo in questo video! Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned e andiamo a vedere il loro super sito. Eccoci qua sul sito di Oned. Come potete vedere ci sono tantissime grafiche per le nostre live streaming, dai pack completi alle motte, gli stemmi e tanto altro. Guardate ad esempio questo pack, si chiama SynthRunner. All'interno trovate tantissime grafiche animate e statiche per i vostri canali Twitch. Sicuramente uno dei migliori modi per avere grafiche professionali appena si inizia a streammare. Come vi dicevo possiamo trovare anche le motte e sono animate. Guardate che belli questi lupi e all'interno del pack ne trovate otto. Mi raccomando qualunque prodotto di grafica acquistate all'interno del sito di Oned, utilizzate il codice M89-Gamer per ricevere subito lo sconto. Come saprete mi piace fare live streaming non solo su Twitch e nella mia lunga carriera ho streammato un po' ovunque, anche su app per incontri. È stato esilarante. Ad ogni modo l'altra sera non riuscivo a prendere sonno ed ho iniziato a cercare possibili alternative a Twitch nate in questi anni ed esclusivamente di live streaming. Ovviamente escludo da subito YouTube perché tanto lo conoscete già tutti ma soprattutto non nasce come piattaforma live ma bensì per i video. E anche Facebook e TikTok che poco avevano a che fare con le live. Quindi esclusi questi chi ci rimane? Apparentemente nessuno. Ma cercando bene in giro mi sono imbattuto in Trovo. Forse alcuni di voi già lo conoscevano, io solo per sentito dire. Diamoci un'occhiata insieme perché è davvero curioso. Eccoci qua sulla home di Trovo. Come vedete somiglia in parte a quella di Twitch. In alto abbiamo tutte quante le etichette che equivalgono alle categorie. Come vedete possiamo entrare ad esempio in quella del IRL che equivale al Just di Twitch. Ne abbiamo differenti. Abbiamo ad esempio anche quella di Call of Duty. E come vedete in ogni sezione in realtà il numero di spettatori non è così grande. Quindi si vede che è una piattaforma in partenza a livello proprio globale. Perché qui io non ho nessun tag per lingua ma sono tutte quante le lingue all'interno della medesima categoria. Quello che ho notato è ad esempio che nella home, nel Discovery, non abbiamo la top. Ovvero quella dove ci sono gli streamer più visualizzati, quelli che hanno fatto la richiesta per la home. Quelli li troviamo all'interno di Trending. Nella Trending abbiamo gli Elisir Master, i Substar, i Big Fan Hero eccetera. Questi qui sono tutti quanti i streamer ai quali la community ha donato più degli altri. Quindi c'è stata una vera e propria interazione e non una richiesta come su Twitch di messa in alto che è molto diverso. All'interno della sezione eventi abbiamo tutti quanti gli eventi della piattaforma, proprio della piattaforma Trovo, nei quali ovviamente gli streamer possono partecipare e avere un maggior guadagno rispetto ovviamente alla non partecipazione. Entriamo nella live di questa ragazza ad esempio. Come vedete somiglia molto a Twitch. A destra abbiamo la chat e a sinistra però abbiamo due cose che mi hanno colpito un sacco. Ovvero questa sezione che apparentemente sembra Discord e infatti è così. È un piccolo Discord integrato a Trovo. Sarebbe veramente molto interessante averlo anche su Twitch. Qui noi possiamo creare delle sezioni, ovviamente io non sono loggato quindi non posso vederla, però lei cosa ha fatto? Ha creato delle chat interne per i sub, per i moderatori e per lo stream chat. Quindi ci sono delle sezioni dove noi diamo dei permessi un po' alla Discord. Chiaramente non è completo come quel social però è un buon modo per tenere la propria community all'interno del canale. Un'altra cosa molto interessante che mi ha colpito è lo space level e il video room. Qui dentro il creator può caricare vari video. Infatti questo è molto interessante, sembra un piccolo YouTube se vogliamo. Mentre invece per quanto riguarda lo space level, qui abbiamo una serie, un rank, quindi da livello 1 a livello 6, dove per ogni livello possiamo sbloccare delle feature. Ed è veramente figa questa parte qui. Vedete qui abbiamo, che ne so, livello 1 non abbiamo il ride, dal livello 2 abbiamo il ride. Abbiamo ad esempio 3 supermod, se andiamo a livello 4 di supermod ne abbiamo 10. Quindi ogni livello che facciamo abbiamo delle ricompense, quindi lo streamer è anche incentivato ad andare oltre. Davvero molto interessante. Qui sotto invece abbiamo il cast spell, dove l'aspettatore potrà selezionare delle ricompense, sia in formato mana, quindi gratuitamente, sia in formato elisir. Sulla carta trovo mi è piaciuto da subito. Somiglia davvero molto a Twitch, ma con alcune feature molto più interessanti. Tanto per cominciare il vostro account ha un livello che si chiama space level. Questo viene aumentato in base alle donazioni di questa moneta che si chiama elisir. E ad ogni livello sblocchiamo nuovi vantaggi e customizzazioni per la nostra community. E come abbiamo visto poco fa, i ride ad esempio si sbloccano a livello 2. Quindi diciamo che le possibilità all'interno di trovo sono meritocratiche su praticamente tutto. Più la tua community interagisce con lo streamer e maggiori saranno i vantaggi per essa. E questa è una cosa che ho apprezzato davvero molto. Altra particolarità, come vi ho mostrato prima, è la chat e il suo menu video laterale. Assolutamente geniali. Praticamente cercano di escludere Discord dall'equazione e mantenere gli utenti all'interno del profilo del creator, senza andare in un altro social. Cosa che invece Twitch ha sempre incentivato a fare. Un'altra peculiarità sono gli eventi e mi hanno colpito davvero molto. Abbiamo uno spazio dedicato e seguendoli guadagneremo ovviamente più soldi. Per il resto a livello grafico somiglia a Twitch ma senza il banner in alto. Ebbene sì, abbiamo l'offline banner, i panel, la foto profilo e ovviamente tutte le grafiche all'interno delle live. Ma il banner non è presente. In sostanza viene sostituito dall'offline banner che invece su Twitch non ha senso di esistere. Parliamo dei guadagni di trovo ed ecco perché sulla carta mi è sembrata una buona alternativa. Sono presenti ovviamente gli abbonamenti e le sub in regalo. Suddivisi anch'essi per livelli e con prezzi diversi, a partire da 1,99$ fino a 8,99$. Ovviamente abbonarvi vi darà una serie di vantaggi simili a quelli di Twitch, tra cui subage, emot e tanto altro. Il guadagno viene spartito 50,50. 50 trovo e 50 al creator. Oltre a questo abbiamo le spell che gli spettatori possono lanciarci, divisi in mana ed elisir. Il mana viene raccolto gratis mentre l'utente guarda la live, simile alla moneta del canale di Twitch. Mentre l'elisir deve essere acquistato e serve per supportare a livello monetario lo streamer. Equivalgono ai bit, insomma. Qui arriva una differenziazione rispetto alla piattaforma viola. Tutto quanto viene trasformato in gemme. Le gemme serviranno anche per entrare nel programma di trovo per la monetizzazione. Ovviamente queste possono essere trasformate in denaro o in elisir che possiamo spendere su altri canali. Per attivare tutto questo, che può essere praticamente paragonato all'affiliazione di Twitch, dobbiamo rispondere ad alcuni requisiti che secondo me sono relativamente facili. Numero 1, 20 follower. Numero 2, 5 ore di streaming. Numero 3, 5000 gemme. Numero 4, avere 18 anni oppure 16 con consenso dei genitori. Se rispondete a tutti i punti potete far richiesta per accedere al programma, iniziando da subito a guadagnare con trovo. Girando in rete, al di là delle solite 2 o 3, questa è la piattaforma meglio costruita che può concorrere a Twitch. Sulla carta mi piace molto, soprattutto come gestisce la community e il leveling del canale, che spingerà lo streamer a fare sempre meglio. Mentre su Twitch, dopo l'affiliazione, capita davvero spesso che i canali smettano nel giro di 6-8 mesi, perché non incentivati in nessun modo. Ora passiamo al gigantesco contro, soprattutto che ha il nostro paese, controvo. Perché questa piattaforma è fatta benissimo, ma in Italia non sta funzionando ancora, perché si segue ciò che è la moda. È da anni che va di moda Twitch e quindi si fatica a spostare sia i creator che le community. L'abitudine e la paura di cambiare fanno sì che in pochi provino altre realtà come questa, che ha tante potenzialità sulla carta, ma che senza le persone non ha senso di esistere. Bene, fatemi sapere nei commenti se avete trovato alternative a Twitch valide come quella di Trovo, che magari le analizziamo insieme in un altro video. Ricordate, mi raccomando, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo e mi raccomando venite a trovarmi in live su Twitch, però non si trovo. Qui sotto in descrizione troverete anche il nostro sito, improveyourstream.com, dove troverete un sacco di servizi essenziali per tutti i content creator che vogliono mettersi sul serio a farlo. Ci rivolgiamo infatti principalmente a loro, con servizi grafici professionali, pack personalizzati, emote e tanto altro. Potrete fare consulenze direttamente con me e parleremo della crescita del vostro canale e dei vostri contenuti ed obiettivi. E se avete bisogno di supporto abbiamo a disposizione un comparto tecnico che vi seguirà nella configurazione e nella risoluzione di problematiche inerenti al mondo streaming. Improve your stream, diventa un professionista della streaming. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video, buona streaming a tutti! Ciao!